Attenzione! Questo video è pieno di suaaaatatatatatatatatata e di 199 005 George Smith e anche di alcuni suaaaarrrrr, si raccomanda quindi una visione ad un pubblico non impressionabile ZIP Salve a tutti ragazzi e bentornati in questa Domenica con PassioneMotori Dato il video avrei voluto registrarlo con la felpa del Vutec che è appena uscita sullo Shop la vedete ora in sovraimpressione, essendo appunto appena uscita e siccome ancora non mi è arrivata a casa, siamo qui con la classicissima non fottico la sopra. Parlando del video di oggi non so quanti di voi conoscano il VTEC, secondo me molti, e immagino che apprezzerete anche la felpa dato che c'è scritto sopra it's over 9000, perché questo motore supera molto facilmente i 9000 giri, è un motore con fasatura variabile, questo vuol dire che, proprio detto alla malissimo per farlo capire a tutti, funziona bene ai bassi regimi, poi arriva un momento in cui PAP e funziona bene anche agli alti, agli alti può aspirare più aria, fa un suono epico e ha tanta potenza. Ora prima di andare a vedere il video vi ricordo di seguirmi su Instagram Passione Motori, di fare un salto nello shop che trovate anche quello in descrizione e se vi fa piacere far parte di un gruppo di Telegram supportando anche il canale, entrate in Patreon con l'opzione entra in famiglia. In descrizione infatti trovate tutti i nomi dei supporter del canale Passione Motori, se volete farne parte c'è il link. Molto bene, andiamo a sentire quanto urla questo VTEC. E come dice la felpa, VTEC just kidding you. La cosa figa è quando lo fanno pure turbo, perché abbiamo anche VTEC turbo qui. Ok, eccoci qua. Ecco di cosa parlavamo. Che cattiveria. Guarda, ecco. Secondo me questo è anche turbo però. Sì, è turbo, guarda come è passato dai 7 agli 8.000 giri. Senti che suono. Che bomba. Turbo. 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 Mamma mia. Eccola lì. Si sente proprio la passatura variabile. Perché è comparsa una freccia? Questa era un'integra, questo l'avevamo visto in un altro video di tipo quattro anni fa. 9.000 passaggiri. Ah, guardate adesso. Ultima marcia a 2.40, 2.50. Tocca il limitatore. C'è. L'S2000. Turbo tra l'altro. Ah, sì, questo qua. Turbo. No, no, no. Turbo. 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 No, no. No, no, no. VTEC. VTEC. Turbo. Oh. Porca putta. Cos'è questo? Sul ghiaccio? Turbo. 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 Non ha ancora finito le marce. Ancora. Ancora. 10.000 giri. Sì, è un due tempi. Turbo. Turbo. Questo dai, è turbo. Turbo. Madonna, che mani leggere. Oh, abbiamo la gara, signori. Allora, vediamo bene. Qua abbiamo VTEC contro 2.86. Che non hanno il VTEC. Questa è il G6. Ok, quindi VTEC. Ah, senti che roba. Ah, è 86. Senti come urla anche lei. Questo è Tsuchiya, nell'86. Con il tachimetro dell'S2000. Guarda, 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 guarda come si avvicina. Oh. La ripresa. Che bomber. Quindi abbiamo Integra al primo posto. Attenzione all'86 che si avvicina. Vuole superare, ma non ce la fa. Quindi per ora sta avvicinando il VTEC. L'S2000 è passata davanti. Quindi abbiamo due VTEC in testa. Senti, senti, senti. Mad... Oh, zio. Oh, zio. Mazio. Che vuol dire tipo, ma cosa? Adesso non so bene il giapponese. Però se ti supera un S2000 così, in esterna dici, ma cosa? Ha vinto l'S2000. Questo ha un paio di profumi in macchina. Ovviamente bisogna toccare l'imitatore prima di cambiare marcia. Opla. Oh, turbo. In seconda, quando inizia ad avere coppia, non ha trazione. Guarda. Madonna, ma è molto superiore alle altre. Guarda come le supera tutte. Spettacolo, eh? Eh sì, va molto forte. Oddio. Contro una Gaiardo. Questa l'avevo visto. Madonna. Quel l'imitatore. Madonna. Che spettacolo. L'epitre. Questa qua ve la porterò in prova sul canale. Ma senti che suono che fanno. Eh, bello anche l'aspirato comunque. Bello anche l'aspirato. Che ignorante. Madonna, il VTEC. Ah, sì. Guarda la tipa. Guarda la tipa. Tipa. Signora. Non la tipa. S2000 ancora. Questo è turbo. Guarda, 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 guarda il culo. Guarda il culo. Guarda. Sono volati i soldi. Ancora Civic Type R P3. Mamma, ma questa qua è una di quelli che va forte, eh? E senti come urla. Questa non so cosa sia. Spoon. Ah, è turbo però. Era turbo. Questa no. Questa è aspirata. Matto! Ma 10.000 giri. Cioè, ma raga. Ma voi avete una macchina che fa 10.000 giri? No, non ce l'avete, ve lo dico io. A meno che non è VTEC. Ma scherzo. Launch. Cioè, secondo me è proprio bello continuare. Matto! Ma quant'è incazzata! È bello continuare a cambiare marcia. Sentire proprio dalla prima alla sesta. S2000. Wow. Completamente vuota. Mamma mia! Che bel suono fa questa! Questo sta andando tranquillo. Ma tranquillo, un paio di coltini. Guarda questo! Oh, la madonna! Tutte ste scene! Cioè, tra un po' è una testata al volante, zio! Ma che roba! Sempre lui! Che bello è la prima e la seconda! Non si sente il cambiamento! Addirittura! Mamma mia! Col sequenziale! Guarda i giri! Cioè, vabbè. Seconda. Ok. Seconda, terza non si è sentito. Quarta. In quarta abbiamo trazione. Quinta. Molto bene. Oh la madonna! Che cazzo! Sembra una moto tra un po'. Oh 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 oh! Madonna! Voglio un V-Tech! C'è, 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 c'è. Ah, questo lo conosco! Lo seguo su Instagram. È tipo RHDev. Con la integra gialla. Illegalissima. Contro cos'è quella? La Cobra, Mustang... Non so, guarda, nì sì, è la Cobra. Oh 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 oh! Gasatissimo! Oh! Maddò! Ma questa è allucinante Contro una Ferrari 458 Ok però l'hanno dovuta far tuo Per stare davanti a un Ferrari Va bene ci sta Eccolo Qua si è sentita proprio la fasatura variabile Ah boh più o meno 6000 giri Eccolo anche qua si sente tantissimo A 5000 giri questo Eccola C'è praticamente impazzisce il motore Senti che suono Senti che suono Che spettacolo Tra l'altro oggi Bello lungo eh Turbo Senti che roba C'è VTEC più turbo Devo fare una felpa dedicata al VTEC più turbo Mamma mia turbo Eccola qua Tutto è turbo adesso Cioè già il VTEC veramente impazzisce dopo tutto di giri Se poi c'è pure la turbina Mamma mia Ma va 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 Zero trazione Guarda E' un continuo E' un continuo Mado Guarda Non c'è trazione In terza si Mamma che cambia Come è sfrecciata quella Porca miseria Bene ragazzi Questi erano i video di oggi VTEC Già schierino Spero che la domenica con Passione Motori di oggi vi sia piaciuta Martedì non ci sarà un gameplay ma ci sarà una prova Auto o moto non lo so Probabilmente auto E giovedì come al solito MotoVlog Vi aspetto quindi martedì ore 18 qui sul canale Passione Motori Non dimenticate di seguirmi su Instagram Date un occhio anche allo shop per delle fantastiche felpe Grazie della visione e noi ci vediamo al prossimo video Ciao